Oggi abbiamo trattato l'1 con Trudo in fase di non possesso, in zona 1 e in zona 2. In particolare ci siamo soffermati sulla postura del corpo che il difensore deve attenersi nel recuperare il pallone. Ci siamo soffermati sulla linea d'anticipo, sul fatto che il difensore deve recuperare la palla e non far perdere tempo e spazio al portatore di palla. Siamo stati molto attenti nel curare la posizione dei piedi, delle braccia e del baricentro. In più, nell'ultima esercitazione c'è stata anche una mini collaborazione di reparto dove abbiamo potuto vedere come i ragazzi, non più singolarmente ma insieme di reparto, hanno pensato la fase di non possesso. Di farlo con amore, di farlo con amore e con passione. Qualsiasi cosa facciano devono pensare che la cosa più importante del loro lavoro non sono loro stessi ma sono i ragazzi. Saluto tutti i lettori del Novo Calcio, è una rivista figa quindi vi consiglio di leggerla perché è molto carina, interessante e stimolante. Vi abbraccio, ciao One. Grazie a tutti.